Salve amici di Pupia, oggi abbiamo per voi un servizio molto speciale, abbiamo seguito una pattuglia della polizia municipale nell'osservanza dei suoi doveri civici e abbiamo scoperto delle particolarità, abbiamo scoperto quanti posti per i portatori di handicap vengono invece occupati dalle persone che non hanno quello speciale tagliandino rosso che definisce i posti per i portatori di handicap. Vedrete nel corso del servizio una pattuglia della polizia municipale che osserva questo particolare servizio. Abbiamo riscontrato i dati, li troverete a memoria, quindi a corollario di questo nostro articolo, lo troverete come corollario nell'articolo. Vi posso assicurare che ci sono state delle sorprese abbastanza grandi. Possiamo vedere anche in questo momento, cioè Piazza Municipio. Noi, amici di Pupia, abbiamo visitato tutte le zone di Aversa. Questa in particolare è Piazza Municipio, dove addirittura in questo momento, davanti ai nostri occhi, un vigile, un operatore sta assegnando una multa ad una persona che non avendo il tagliandino per potersi fermare, ha lasciato la macchina comunque in una sosta vietata. Questo è un problema di non particolare rilevanza, perché ricordiamo che i portatori di handicap hanno dei posti riservati e che per nessunissima ragione noi cittadini che non abbiamo nessun tipo di handicap possiamo occupare questi posti. Purtroppo la disabitudine o la mancanza civica molto spesso fa sì che invece questo accada. La ricetta ne portava un pomodoro e di consegnerlo da di loro sa che c'erano a cazzare quattro chili e li guardai belli, belli assai E tu devi scegliere il premio dai a me Io mi dimanno perché vanno cercando sti tre allenati che ti prende del mondo Ho negli occhi un bel mistero profondo E io tengo un bell'andà Leonino e muscolà Tu qui vuoi premia Tu qui vuoi premia